Fra un minuto partiamo eh Mi sentite? Sindacorno Dobbiamo essere tosti Non è un gioco Iniziamo La domanda deve essere fatta tramite Mi tenti, attenti, attenti Perché tutto questo se non gioco Ma un gioco non è Due, tre, quattro La domanda deve essere fatta tramite Mi tenti, attenti, attenti Perché tutto questo se non gioco Ma un gioco non è Due, tre, quattro In basso Perché si scherza affinché non si vive in prea persona Non è un gioco Io credo che bisogna sostenere L'attività psicologica in questo momento Le giornate sono impegnative Oggi è stata una giornata molto impegnativa Non sono riuscito Io credo che bisogna respirare un momento Perché comunque le problematiche Non è stato bene Grazie Ma sempre meglio Io credo che bisogna lavorare molto su noi stessi Dobbiamo fare molto altro critico Dobbiamo farlo subito Non domani, domani potrebbe essere troppo tardi Questo è il momento di dire Poi ci sono delle domande Allora La domanda deve essere fatta tramite Mi tenti, attenti, attenti Perché tutto questo sembra un gioco Ma un gioco non è Due, tre, quattro La domanda deve essere fatta tramite Mi Se qualcuno dispone Tutto questo sembra un gioco Ma un gioco non è Due, tre, quattro Il basso Sindaco non è un gioco Sindaco non è un gioco La domanda deve essere fatta Arritu Arritu Non è un gioco La domanda deve essere fatta Arritu 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 Lontano dalla nostra abitazione L'uscita veloce e potenziale Arritu 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 Lontano dalla parte bassa di Monticelli